Verificare le opere sinora compiute, sorvegliare i lavori in atto, quelli da realizzare nell'ambito delle opere di compensazione e la manutenzione delle strade percorse giornalmente dai mezzi pesanti della ditta, quantificare eventuali danni ambientali e danni derivanti dai ritardi dei lavori. Questo l'intento del tavolo tecnico, legale e politico relativo ai lavori di ammodernamento della strada statale 640 e le relative opere di compensazione che oggi per la prima volta si è riunito nei locali di via degli Abruzzi. Un tavolo istituito dall'assessore comunale Giuseppe Tuminelli e coordinato dall'ingegnere Giuseppe Dell'Utri che si incontrerà ogni mercoledì per concordare eventuali azioni da intraprendere. Una volta che il tavolo tecnico, politico, legale avrà fatto la sintesi di tutte quelle che sono state i documenti prodotti in tutti questi anni, diciamo dal 2008 sino ai giorni nostri, a quel punto usciremo con un documento unico nel quale si chiederanno tutta la documentazione che ancora l'ufficio tecnico, ovvero il comune, dovrà acquisire da parte di ANAS con le proposte vere e proprie che saranno la sintesi per l'appunto che uscirà dal gruppo di studio, dal gruppo di lavoro. A fare da Pungolo all'istituzione del tavolo la mozione della settima commissione trasparenza presieduta da Salvatore Petrantoni presente al tavolo insieme ai presidenti della seconda e terza commissione per l'aspetto politico. È vero che la mozione della settima commissione è sicuramente stata da Pungolo e è stata sicuramente quella che ha accelerato un po' i tempi e ha consigliato all'assessore di fare questa riunione. Però così come ho già detto all'assessore mi auguro che non sia soltanto una riunione dove ci sono tavoli e tavolini ma che si vada subito al punto, si vada subito a vedere cosa possiamo fare per la città di Caltanissetta e quindi per avere queste famose opere di compensazione e questa riqualificazione di questi danni che sicuramente ci sono, sono evidenti e grazie anche all'aiuto di alcuni avvocati proveremo a capire fino a quanto possiamo agire anche legalmente.